ciao benvenuti a cazzeggio catabiotico ciao benvenuti ad un altro episodio di cazzeggio catabiotico in questa puntatona dal colore di retrocomputing metteremo a confronto il mitico commodore vic 20 contro il commodore 16 quale di due scegliere per una collezione di retrocomputing il commodore vic 20 fu il primo computer della storia dell'home computing il suo sviluppo hardware deriva dal PET il vic 20 è basato su 6502 con memoria rom di circa 20kb contenente sistema operativo e basic memoria ram di 5k di cui 3,5kb disponibili per la programmazione in basic periodo di maggior successo commerciale del commodore vic 20 è stato il 1982 anno in cui è risultato anche il computer più venduto nel mondo con 800.000 esemplari venduti in totale ne furono prodotti e venduti circa 2,5 milioni di commodore vic 20 tuttavia non è il vic 20 il computer più venduto della storia ma bensì il commodore 64 con 17 milioni di esemplari quando comparve decretò la fine del vic 20 il commodore 16 è un modello di home computer presentato dalla commodore nel 1984 avrebbe dovuto essere l'erede del vic 20 cioè una sostituzione del vic 20 per proporre una linea di computer più a basso costo rispetto al commodore 64 commodore 16 era dotato del 7501 lavorava a 0,89 megahertz oppure 1,78 megahertz di frequenza aveva un canale di hobby direzionale a 7 bit con cui in collaborazione con il chip TED della commodore il quale gestiva il bank switching e poteva indirizzare in modo dinamico vari banchi di memoria dei 16 kb di memoria RAM totali disponibili sul computer l'utente ne poteva utilizzare circa 12 l'interazione del 7501 con il chip TED della commodore causava ovviamente dei rallentamenti che comunque si potevano evitare se si disattivava l'output video del chip TED ora la scarsa dotazione di memoria, l'assenza degli sprite e la presenza di un audio di basso livello non facilitarono lo sviluppo di giochi nonostante le forti limitazioni hardware molti dei programmatori si ingegnarono per riuscire a far stare i videogiochi in pochi kb la quasi totalità del software si accontentava tra i 12k del C16 tuttavia il commodore 16 non ebbe un successo commerciale anzi fu un flop in quanto era incompatibile con i giochi già scritti del Vic 20 quanto per quelli del Commodore 64 quale dei due scegliere? ma sinceramente da questi due computer sono talmente preistorici con una memoria veramente infima e con una qualità dei giochi sia come grafica che come effetti sonori che io sinceramente non mi starei nemmeno a porre il problema di mettere da parte qualche cosa né diciamo di hardware che sicuramente avranno tastiere a pezzi e alimentatori prossimi a incendiarsi e nemmeno stare a crearsi troppi problemi per il mondo dell'emulazione anche se a quanto pare Google qualche emulatore del Commodore Vic 20 e CE del Commodore 16 ne trova io sinceramente questi due computer li scarterei completamente rispetto al più importante Commodore 64 ok per questa brevissima puntata di retrocomputing abbiamo finito un saluto ciao alla prossima